110 anni di storia, 110 esemplari numerati Insuperabili Linee rolosce ufficiali Atalanta BC Disponibili in 4 versioni Skeleton, Master, Quartz, Woman Io ho l'esemplare numero 10 della versione Master Tu cosa aspetti? Chiama ora il numero verde gratuito 800171040 Ma frettati Perché sono disponibili in solo 110 esemplari numerati Ti aspetto Perché il tuo crono Atalanta te lo consegnerò io in una cena di gala